I due pistole che si trovano qua in questa piazza sappiamo che vengono a rinforzionarsi quelli che sono i devastatori o perlomeno quelli che proteggono i devastatori di questo territorio quelli che rendono possibile per venire questo scelto Vergoia! Vergoia! più bella oh venite qua venite qua fuori vieni l'altro mezzo con mezzo via per me per me per me per me per me per me via 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 fuori le truppe dalla Marsusa 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 La polizia, la polizia, via via la polizia La polizia, la polizia, via la polizia